11 mesi fa Antonella Clerici è diventata mamma di Maelle e ammette di non essere ancora in perfetta forma. Le mie forme generose adesso sono un po' esagerate, ho ancora qualche chiletto di troppo ma per metà febbraio quando condurrò il festival di Sanremo sarò in forma, dichiarato la conduttrice al settimanale Gente. Con il suo corpo ha un rapporto buono da sempre, non vorrei essere troppo magra, dice la Clerici che poi confessa. Da giovane volevo ridurre il seno perché lo vedevo troppo grande, ora molte donne sognano di aumentare il volume del décolleté e io ragazza mi feci portare da mamma dal chirurgo estetico per avere l'effetto contrario, lui si rifiutò e non finirò mai di ringraziarlo. Del compagno Eddie Mertens dice è un uomo faticoso, non te la dà mai vinta, devi discutere su tutto, abbiamo culture ed età diverse, per questo a volte ci sono piccole divergenze ma tutte affrontabili.